La semifinale, prima semifinale sostissima, l'abbiamo detto a tutti i nostri amici che ci seguono da casa, che sono già prediliti nel sostenere una coppa... Riparte la fortunata trasmissione televisiva I Sapori del Sole, giunta alla sua ottava edizione in onda su Alma TV, canale 65 del digitale terrestre, da sempre conosciuta come Alice TV. In questi giorni sono partite le registrazioni della nuova serie all'Hotel Capital al quadrigo di Campania, sempre condotta dalla giornalista enogastronomica Rosaria Sica, questa volta accompagnata dal bravissimo Matteo Poggi, reduce da detto fatto sul Re 2, e l'eclettico Alessandro Tipaldi, notissimo sui social con lo pseudonimo di Ingordo. Proprio Rosaria Sica svela le novità di questa edizione. L'ottava edizione quest'anno ha una novità eclatante, importante, che è la sfida. Finora avevamo evitato questo tipo di formula, perché volevamo promuovere soltanto il territorio attraverso la preparazione. Invece ci siamo resi conto che c'era una grande richiesta da parte di tante persone che dicevano, ma perché non create qualcosa che coinvolga più persone? E così abbiamo deciso e abbiamo avuto veramente decine e decine di richieste. Abbiamo fatto una selezione iniziale fino ad arrivare a 14 concorrenti che si sono poi sfidati qui all'Hotel Capital a Campania. Abbiamo avuto persone che venivano da Roma, dalla Toscana, da Perugia, da tante parti d'Italia, quindi siamo contenti anche di aver fatto conoscere il nostro territorio attraverso la loro presenza qui. Accanto a me due chef di eccezione, perché da un lato abbiamo Mattia Poggi, Reduce, da detto fatto, ora i due, e dall'altro invece abbiamo Alessandro Tipaldi, detto ingordo, che è un food blogger famosissimo con migliaia e migliaia di followers amatissimo. Quindi abbiamo messo insieme un po' i social e l'attualità per rendere un prodotto, ci auguriamo, che possa piacere al nostro pubblico. Ovviamente come sempre ringraziamo tutti i nostri sponsor, i nostri partner, in particolare Terraorti, che da sempre ci ha dato fiducia e ci ha reso possibile la creazione di un prodotto come questo. Quindi mi raccomando, da fine giugno, inizio luglio, poi ve lo faremo sapere, tutto andrà in onda su Alma TV, canale 65 del Digitale Terrestre.